Buonasera Chef, sono Pio Giovanni di Cosmo, un suo corsista e voglio soprattutto complimentarmi per quanto riguarda il suo modo di relazionare con tutti quanti noi addetti al settore di gastronomia, pasticceria e quant'altro. Soprattutto voglio complimentarmi per il suo modo di presentarsi, per il suo modo di relazionare con noi e per quanto riguarda soprattutto la sua generosità e la sua onestà di come esterna tutta la sua esperienza. Tutto questo è da onorare perché ce ne sono ben pochi di professionisti così generosi nell'esternare con generosità anche i piccoli dettagli, anche i piccoli accorgimenti che poi fanno la differenza. Io non sto già vedendo i benefici anche perché mi sono sempre cimentato da alcuni anni dietro la pasticceria oltre ad essere uno chef di cucina, però a volte i piccoli dettagli fanno una grande differenza. Per cui lo reputo un grande investimento per coloro che si approcciano a questa esperienza di valutare e di migliorare le proprie esperienze a beneficio dell'azienda, del privato ma anche del dilettante. L'unica cosa a quanto pare, da quanto ho notato, anche per coloro, per le casalinche che sono a casa tormentate dai bambini, da tanti impegni eccetera, l'unica cosa è la concentrazione, la dedizione, altrimenti si spendono soldi inutilmente. Questo è un grande aiuto, sono anche i timer per essere allertati nella tempistica di un prodotto che sta al forno che deve lievitare. Tutto qua, grazie ancora, ci sentiamo, io lo seguo con molto piacere anche se sono ormai fuori dall'ambito del lavoro, sono un dipendente IMSS per cui maturo sempre. La mia passione per questa grande esperienza, grande attività eccetera, anche se non sono un professionista al livello degli altri, però tutto ciò che mi metto in competizione con gli altri, per me e anche per la famiglia e poi ma anche degli amici. Grazie ancora.